Ciao amici di GameCollection.it, sono Simis1991 e sono qui oggi per farvi vedere gli ultimi acquisti che ho fatto da dicembre in avanti. Iniziamo subito con i titoli Sony. Il primo titolo è per PlayStation 1 ed è GTA The European Bersion Platinum. L'ho trovato in un mercatino a 1 euro, 2 euro, non mi ricordo, 1 euro comunque penso, e completo di tutto, davvero un titolo bellissimo. Non mi ricordo di averlo mai giocato su PlayStation ai tempi, l'avevo giocato con qualche emulatore, però averlo in copia fisica, seppur Platinum, mi riempie d'orgoglio, mi piace molto. Poi purtroppo non ho il quarto capitolo che devo reperire sicuramente da qualche parte. Poi il GTA V che ho preso da poco mi piace troppo. Poi titoli Sony, titoli PlayStation Portable invece. Ho iniziato a collezionare i titoli Essential, non so perché, perché ho iniziato a trovarli a un prezzo abbastanza basso. Io tante volte baso i miei acquisti arretrati su quelli che hanno un prezzo relativamente basso. Questi titoli Essential partivano da 19,90 e li ho trovati a prezzi da 1 a 2 euro davvero bassi. Il primo è Invisible, un gioco che ci permette tramite la nostra PlayStation Eye, non so come si chiama, la fotocamera comunque per PSP di evocare delle creature mostruose e far lottare un po' in stile Pokémon anche se ha ben poco di Pokémon in realtà. Però non era davvero simpatico ai tempi appena ero uscito e non avevo mai avuto il titolo in versione scatolata e me la sono presa. Poi Buds The Music Quids, conosciamo tutti il celebre noto Buds divertente in versione PSP un po' meno, però domande, quiz, trivia ci piacciono. Poi God of War The Chains of Olympus, invece un titolo abbastanza carino, l'avevo già provato un bel po' di tempo fa, l'avevo già finito e mi era piaciuto. Devo trovare sicuramente anche gli altri titoli. The Sims 2 Pets, invece sì, The Sims con gli animali, niente di che, non è il mio genere però è simpatico, lo prendiamo per la ragazza. Poi sempre non Essenzial, sempre per PSP ho preso anche, dato che avevo preso il primo Invisimol, ho preso anche questo Invisimol che si chiama Le Creature d'Ombra, che non so in che numerazione sia, perché ho visto che ne sono usciti talmente tanti di Invisimol di quest'ultimo periodo, penso sia al 2 ma non vorrei dire cagate. Qua c'è scritto Super Gioco Essenzial, ma non lo dovrebbe essere. Infatti ha anche una chiusura abbastanza homemade, non mi piace troppissimo. Lo proverò pur di aprire questa brutta pellicola trasparente che non mi piace più. Poi, per PS Vita invece due titoli che mi sono piaciuti. Il primo è Soul Sacrifice, è uscito circa marzo 2013 ed uno dei must have per PS Vita, penso che sia uno dei titoli migliori che sia uscito su PS Vita. Si può giocare in rete da 1 a 4 giocatori, mi è piaciuto molto. Stile Monster Hunter, davvero davvero bello. Lo consiglierei a tutti perché è PS Vita, quel bellissimo fermacarte tecnologico come direbbe Raiden. Con questo gioco serve a qualcosa. Lo stesso, un po' meno diciamo, per Blackgate, Batman Arkham Origins Blackgate. L'ho preso, costava 15€ con la promozione di GameStop. Devo dire che simpatico, bello, un platform di Batman, un po' di enigmi. Sì, mi è piaciucchiato. Lo sto ancora giocando, però non è niente di che. L'ho preso perché mi interessava. Non avevo mai giocato ai giochi Arkham Origins, mi hanno detto già che ho fatto male in quanto dovevo giocarle su console fissa, che questo non c'entra proprio nulla con la serie. Poi, per finire, Sony basta. Sì, dovrebbe essere tutto. Invece per Microsoft ho preso per Xbox nuovo, Spyro Aerostale, ho appena cominciato. Mi sta riportando nei vecchi tempi, diciamo, con Spyro. I primi tre capitoli mi sono piaciuto davvero tanto per PlayStation 1 e questo titolo mi sta riportando alla memoria tante belle cose. Devo dire che è promossissimo, di sicuro tutti l'avranno già giocato. Avendolo trovato su Xbox, avendo comprato anche da poco l'Xbox 360, l'ho preso e mi piace davvero tanto. Poi due giochi invece loose che mi hanno regalato al mercatino perché era Natale, perché la cassiera era molto simpatica. Sono due titoli Lego. Il primo è Lego Batman The Video Game, che ho già giocato per console fissa, simpatico, infatti non ho neanche provato. L'altro invece è Indiana Jones, sempre il videogioco, poi ci sarà scritto qualcosa, The Original Adventures. Simpatico, la prima è la bundle copy, l'altra non lo so ma penso di sì. Sto giocando a Indiana Jones, ho giocato un pochettino e devo dire che mi è piaciuto. Poi i titoli Lego sono davvero davvero carini. È tutto per Microsoft. Invece per Nintendo, che è un po' la casa che mi piace, ho ripreso perché sono titoli che riprendo. Per Game Boy Color, Pokémon Pinball. Pokémon Pinball mi è sempre piaciuto tantissimo. L'ho ritrovato da un ragazzo a 16€ spedito, raccomandata, nuovo praticamente. E devo dire che mi ha sempre riportato alla mente quelle giornate in cui stavo lì a giocare con i pinball. E diciamo che, essendo abbastanza giovane anche, questo gioco mi ha particolarmente ispirato a giocare ai pinball. So che magari per tanti non è una cosa molto sensata. Magari giochi ai pinball e poi ti piacciono i Pokémon e hai giocato anche a questo titolo. Invece no, questo titolo mi ha passato la voglia a giocare ai pinball. Vabbè, mi sono espresso un po' male però avete capito di sicuro. Poi, per GBA ho preso tramite lo Star Catalog a 2500 punti Mario Power Tennis. L'avevo già, sempre dello Star Catalog. Lo tengo in versione sigillata, anche se anche l'altro in versione sigillata. Giusto per averne due copie. Mi era piaciuto il gioco. Certo, non è il massimo degli spin-off Mario che preferisco, però sempre simpatico. Poi per Nintendo DS invece ho trovato a 9,99 da Saturn tutti e due questi giochi. Il primo è in Azuma Eleven della Level 5. Gioco di calcio un po' strategico, un po'... un po'... buono, mi è piaciuto molto. Devo dire che il primo titolo della serie è in Azuma Eleven. Pensavo di trovarmi un altro tipo di gioco, invece mi sono... mi è caduto tutto. Pensavo di giocare a calcio invece di non giocare con lo stilo e fare tutte queste cose, ma purtroppo siamo su Nintendo DS e quindi non mi dovevo aspettare troppe cose. Parliamo, non è perché Nintendo DS è una delle mie console preferite, però per un gioco così mi aspettavo molto di più. Poi invece per un gioco che non ho ancora scartato e non scarterò anche perché ho la versione bianca già giocata, già finita e tutto, stiamo parlando di Pokémon versione nera 2. Questo giusto per collezione perché i titoli Pokémon è una delle mie serie preferite, quindi li voglio tutti. Poi per Nintendo 3DS, quindi diciamo la next gen portatile di Nintendo. Ho preso a 6,98 da GameStop Driver 3D Renegade. Mi dicevano tutti che era una cagata e infatti è proprio una cagata, davvero bruttissimo. L'ho finito la modalità carriera, storia, non so come la chiama il gioco, in un'oretta, un'oretta e mezza, qualcosa di davvero brutto. Non ho sbloccato tutti i veicoli, però no, bocciato, bocciato. Per 6€ si va ancora bene, però lo dovevo lasciare stare, diciamo. Poi invece Madden Football NFL, un titolo davvero simpatico preso su Zabbi a 6€ circa, 6€ spedito. Mi è piaciuto davvero tanto, non conosco bene le regole e non conoscevo almeno le regole del football americano, ma con questo titolo mi sono, ho iniziato ad imparare in, vabbè, davvero davvero molto così, diciamo. Però devo dire che è uno sport che mi piace, riproposto su Nintendo 3DS, è davvero simpatico. Bello, bello, mi è piaciuto. Poi, infine per Nintendo 3DS sempre Resident Evil Revelation. L'ho iniziato senza Circle Pad, devo dire che stavo davvero messo male, anche perché non riuscivo a far niente, non riuscivo a minare, non riuscivo praticamente andare avanti nella storia. Quindi cosa ho fatto? Ovviamente mi sono preso il Circle Pad Pro. Il Circle Pad Pro ho trovato a 75% in meno, quindi circa 5€ e devo dire che è davvero figo. Un gioco davvero figo con il Circle Pad. Circle Pad non supporta tanti giochi, supporta 5 o 6 giochi che ho io in collezione, che sono Resident Evil, Resident Evil Revelation, poi, vabbè, altri titoli, Monster Hunter 3 Ultimate, Kidai Karus e Ace Combat. Però è una periferica che mi è sempre piaciuto. Un accessorio che mi è sempre piaciuto. È un po' ingombrante, però ci si fa l'abitudine. Tanti giochi sono davvero resi bene. E per finire, che avevo detto che stavo già finendo, però un altro titolo che purtroppo non avevo acquistato e che ho trovato a un mercatino a... vediamo se riesco a farvi vedere il prezzo. No, è dall'altra parte. 5€. Scatola rossa, avete già capito tutti. Infatti si parla di Super Mario Bros. Wii. New Super Mario Bros. Wii. È un titolo davvero simpatico, lo conoscete meglio di me, forse Mario su Wii. Davvero bello. Lo gioco la mia ragazza ed è simpaticissimo. Penso che con 4 giocatori ci siamo un casino enorme. Già in 2 facciamo fatichissimo andare avanti nei livelli. Non peraltro, non perché siamo... non siamo capaci, ma perché è troppo confusionario prendere l'app di qua, l'app di qua, poi girare un po' a caso. Mario Ghiaccio lì nel... i livelli con il ghiaccio difficilissimi da controllare. Poi uno guarda il tuo PG, tu guardi il suo PG è un po' un casino. Comunque devo dire che... davvero bello, davvero bello per quello. Per questo è tutto con gli acquisti di questi 3 mesetti. Vi ringrazio per aver visto il video. un like sulla pagina di GameCollection.it e anche sul canale ovviamente. E ci vediamo con il prossimo video. Ciao ragazzi!